Benvenuti a una nuova puntata di Decore Podcast a Milano, in trasferta a Milano. Abbiamo una gradita ospite in mezzo a me e Danilo, mi scuso con te per Danilo, per la sua presenza. Io ormai sono milanese. Per le cose che dice. Uè, tutto a posto. Allora, come andiamo? Si lavora qua, si fattura. Abbiamo iniziato a inserire gli inglesismi nella trasmissione per essere all'altezza, quindi se trovate qualche parola che non vi convince, come ci ha detto qualche ospite, non è molto Decore perché ci siamo lasciati influenzare dall'aria che tira qui, appunto. Questo respiro internazionale, capito? In mezzo a noi abbiamo Federica Abbate, benvenuta. Ciao ragazzi. Iniziamo solitamente con la definizione di Wikipedia che dice Milano 23 gennaio 91, quindi abbiamo una milanese doc. Ebbene, sì. Ma doc mica tanto, in realtà. Però, comunque, è difficile trovare... Diciamo che sono nata qui. Trovare a Milano, nati a Milano. Anche se c'è tanta gente che si spaccia per milanese doc, magari qualcuno anche vero. Però questo non è un luogo comune. Cioè, quando parlo con i milanesi, mi dicono, a Milano non ci sono milanesi. Proprio la persona che me lo dice anche non è milanese. Ebbene, sì. Però tu questa cosa la puoi confermare, essendo milanese. La super confermo. È come Danilo che dice che è di Roma, invece è di Fiumicino. È la stessa cosa. Ma se io mi chiamo Danilo da Fiumicino, cioè io proprio ci ho messo il nome, ci ho messo dietro. Sì, però comunque tu questa cosa, la cucina romana, le cose, non è che fai la cucina di Fiumicino, non è che fai, cioè, sempre, vai sempre a mangiare nel piatto nostro dei romani, comunque. Cantautrice, compositrice e paroliera italiana dice Wikipedia, giusto? Ebbene, sì. Sai perché ci capita spesso che sia sbagliato Wikipedia e poi chiediamo di correggerlo. Ho capito chi è che fa il mio Wikipedia, Wikipedia o Wikipedia. Perché deve esserci qualcuno, no? Che ogni volta che esce qualcosa... Pensa che io non ce l'ho. Quindi nessuno la... Almeno tu c'hai avuto... Hai una preoccupazione in meno. No, tu c'hai avuto la fortuna che qualcuno te l'ha fatto. Non sai chi l'ha scritto. No, ma tutte le volte dico, ma chi sarà che va a mettere... Perché appena esce una canzone? Cioè, subito. Cioè, vuol dire che c'è qualcuno che appena esce, tipo, va subito, immediatamente e aggiorna. Io invece ho praticamente una lista di tutti gli artisti con cui hai collaborato, ok? È giusto dirla. Volevo impararmela a memoria, ma è praticamente impossibile. E tra i tanti ci sono Amy Schilla, Fred Palma, Mr. Rain, Elisa, Baby K, Selton, Car Brave, Franco 126, Michele Bravi, J-Ax, Tedua, Salmo... Mr. Rain, Emma Marrone, tantissimi. Lui ha chiamato Fred Palma, in realtà è Fred De Palma. Diciamolo perché sennò, cioè, mi sembra... No, soffro di... Ti chiediamo scusa, Danilo, è così. Io mi sono scusato all'inizio proprio per questo motivo. E quindi tu, diciamo, sei un'autrice che però scrive anche canzoni per sé e se le canta. Ma hai iniziato un po' come autrice pura, perché se tu mi facevi questa domanda, ossia vorresti scrivere delle canzoni per te dieci anni fa, io dieci anni fa ti dicevo, no, non ce la faccio, perché comunque avevo paura di un sacco di cose, perché una cosa è stare in studio e scrivere le canzoni, una cosa è tutto quello che viene intorno alle canzoni che sono e la foto e il feed di Instagram e come ti comunichi e come comunichi la canzone e di come ti vesti. E quindi ero terrorizzata da questa cosa. E quindi all'inizio ho fatto l'autrice pure e basta. E scrivevo quindi solamente canzoni per gli altri. Poi a un certo punto mi sono detta, cavoli, ha furia di scrivere canzoni per gli altri, però ho iniziato ad avere una mia vocalità, ad avere un mio mondo. Quindi mi sono detta, senti, scriviamo anche qualche canzone per me. E quindi l'ho chiamato il primo primo album, Canzoni per gli altri, così almeno ho chiuso un po' il cerchio, no, in qualche modo. Ti dà fastidio la narrazione su di te della hitmaker o è una cosa che, nel senso... Ma no, è una cosa bellissima. Tu sei contenta di una cosa di cui sei fiera? Ma cavoli, sì, nel senso, è difficile scrivere delle hit, quindi chiaramente essere definita hitmaker... La prima hit che hai scritto? Ma guarda, me lo ricordo, era l'amore Eternit. La ricordi? Certo. C'è ne sono tante. Assolutamente. Mi ricordo che ero per strada. Chiaramente ai tempi non è che c'era Instagram così evoluto, no, in qualche modo. Io ero per strada, quindi proprio alla vecchia. Mi ricordo che è passata questa macchina con dentro a palla l'amore Eternit. Cazzo, allora... Allora funziona. Allora funziona. Io non sono musicista. Ci sta col senno di poi qualche canzone che c'è il rimpianto che non l'hai cantata tu? No, nel senso, assolutamente no. A parte che a me piace un sacco dare ad altri. Faccio più fatica a tenere qualcosa per me, a prendere dagli altri, che a dare. Però in quel momento non ero sicuramente pronta per fare un salto del genere. Non me la sentivo proprio io, quindi preferivo stare un po' più riparata dietro alla scrittura. Certo. Ai tempi, eh. Ai tempi. Si riesce a instaurare... Poi crescendo, insomma. Uno cresce, diventa più consapevole. Si riesce a instaurare un rapporto personale con gli artisti a cui scrivi i canzoni sempre o solo in alcuni casi? Ma guarda, è come nei rapporti normali, nel senso vai a simpatie, no? Chiaramente a me stanno tutti simpatici, perché è la verità, però chiaramente ci sono persone con cui hai più feeling di altre, con cui proprio ti trovi di più, c'è più, non lo so, hai più punti in comune. Con alcuni sono nate delle amicizie. Anche se sono a volte anche tanto diversi da me. Cioè io mi ricordo per dire veramente la prima volta, penso, mi ricordo la prima volta che sono entrata in questo mondo, avevo 22 anni, ti parlo del mondo dell'autrice, perché ancora ai tempi non cantavo. Mi ricordo entrare in studio, c'era nei Club Dogo. Io mi ricordo che non sapevo cosa dire. Sono arrivata lì, avevo un vestitino tutto pieno di fiorellini. Loro mi guardano come dire, ma questa cosa è venuta a fare io? Sono venuta a fare i ritornelli, ricordano per sempre. Loro, oddio, cosa? Perché io vivivo in un altro mondo, in qualche modo. E poi è stato un crescendo. Poi è stato un crescendo, perché io all'inizio scrivevo queste melodie che comunque erano un po' particolari, un po' nordiche. Infatti non è che trovavano una collocazione nel pop. Nordiche? Definisci nordiche che magari per chi... Un pochino più di spunto verso tutto quel mondo alla sia. Per me il nordico è tirolese, capisci? Tantico è tirolese. Quindi io ho stimma, quindi spiegalo a me. Sì, per dire, mi ricordo Mo, per dire tutti quelli che erano un po' le mie reference ormai di dieci anni fa. E avevano un po' queste linee abbastanza, come si può dire, rollercoaster, no? Come venivano gestiti, io penso ad esempio in radio, che poi è una canzone che ho anche cantato, ma non c'era il mio nome. Per il rollercoaster è difficile da capire Danilo, nel senso, comunque... Come si può... Una melodia curvi, una melodia curvi. Come se stai parlando da un bambino, tu fai come se stessi parlando da un bambino. Esatto, c'è queste melodie che diciamo rompevano un po' quelli che erano i canoni della tipica melodia italiana, che era un pochino più classica, più verso il cantautorato, che non trovavano quindi spazio nel pop. Quindi ho trovato subito spazio nella scrittura, nel mondo urban, quindi nel rap. Quindi mi sono trovata in mezzo a tutti questi ragazzoni, tutti tatuati, e io ero con vestito a fiorellini, non c'entravo niente. Ma in realtà c'entravo tantissimo, perché poi alla fine... L'abito in realtà poi alla fine non fa totalmente il mono. Ma l'hai abbandonato il vestito a fiorellini ogni tanto? Ma guarda, allora io sul look è una domandona, nel senso che se io dovessi vestirmi come piace a me... È presente le cinesi che vanno in giro con i colletti, con i coniglietti, le cose... A me piacciono quelle cose lì, però chiaramente mi stanno malissimo, ma malissimo. Quindi chiaramente io a volte vado a fare shopping con le mie amiche, mi metto i vestiti, mi dicono togitelo subito, ti sta veramente male. Però a me mi piacciono cose che non piacciono chiaramente a nessuno, e quindi poi mi sono adeguata a vestirmi un po' così. No, no, non ce l'ho, non l'ho preso, quello spiele l'ho rigettato da sola, per fortuna. Molti degli artisti con cui hai collaborato poi sono venuti a fare un featuring nel tuo disco, che abbiamo detto si chiama Canzoni per gli Altri, del 2023, quindi di quest'anno. Esatto, di una settimana fa. Quindi freschissimo proprio. Freschissimo. E ti hanno fatto la cortesia, il piacere di essere loro ospiti tuoi, no? Quindi una dinamica nuova. Prima tu eri quella che gli forniva qualcosa per il loro lavoro, in quel momento loro ospiti tuoi. È un riconoscimento, un attestato di stima grosso. Mamma mia, enorme, perché mi sono sentita proprio legittimata da persone che stimo, tra l'altro, tantissimo, legittimata non più con quanto autore, ma anche come artista. Quindi per me questo è un valore enorme, e inoltre non era scontato che queste persone mi mandassero indietro il favore. Quindi io sicuramente ho scritto delle cose belle per loro, ma per me non era minimamente scontato che loro ci fossero per me. Quindi è stato un regalo immenso che mi hanno fatto. Senti, restiamo un attimo nell'ambito della musica e poi entriamo nelle domande tipiche di Decore, che sono una serie di domande proprio che vogliono esplorare quello che ti fa stare bene. Decore. Decore. Noi ti abbiamo chiesto una playlist. Sembra impaurita da questa cosa. No, no, sono domande classiche. Va bene. Come sminuisce il podcast? Non so cosa sto parlando. Non so domande classiche. No, no. Vediamo che fa domande classiche. Mo, cioè... Prepariamo. No, ho visto che si era spaventata. Cercavi di essere rassicurante. Sì, rassicurante. Ti abbiamo chiesto una tua playlist Decore, delle canzoni scelte da una persona che è autrice di brani così di successo, è un'autrice, diciamo così, raffinata, diciamo, diventa la tua scelta anche di un certo peso. Quindi cosa piace a te? Cosa piace a lei che scrive cose che piacciono? Allora, io impazzisco, dato che sono una degli anni 90, sono una 90s, per Daido. Io vado fuori di testa per Daido e ancora vado fuori di testa per Daido. sia per me, insomma, è una delle più grandi cantautrici che esistano nel pianeta terraqueo e nonché per me... Un modello anche un po' di vita, perché poi alla fine lei da autrice è poi diventata anche... Quindi da solo songwriter è diventata poi un'artista, secondo me, veramente clamorosa. Cosa ascolta Federica Abate? Allora, Federica Abate ascolta un sacco di canzoni prettamente femminili, nel senso che io amo tantissimo insomma, il pop femminile e il pop abbastanza scuro. A me piace un sacco raie in questo momento. Mi piace veramente tantissimo. Lei è sicuramente uno dei nomi che vi farei. Ma tu quando ascolti la musica per te poi riesci ad ascoltarla solo per piacere? Oppure ad ogni ascolto, tra virgolette, poi... Tra virgolette ci lavori. Riesci ad isolarti? Oggi voglio ascoltare per il puro piacere di ascoltare una canzone. Allora, quando ascolto cose nuove, la Federica Autrice ha sempre le orecchie alzate. Nel senso che comunque è normale che la Federica Autrice è proprio quella legata alla scrittura e che anche, diciamo, serve la Federica cantautrice e poi, vabbè, tutti gli altri. Quindi comunque quando sento qualcosa di nuovo è il mio orecchio un po' clinico, non lo nascondo. Invece quando sento cose vecchie tendo di più a viaggiare, a lasciarmi andare, ad emozionarmi. Però devono essere cose che mi riportano a casa. Ecco, quando vengo riportata a casa mi rilasso molto nell'ascolto. Invece quando chiaramente sono curiosa le antenne sono sempre alzate. Ti abbiamo chiesto fuori onda dei titoli e tu ci hai detto tre titoli di cose italiane che sono Mina, Elisa e Marrakesh. Ebbene sì. Beh, Mina, io sono cresciuta con Mina. Tra l'altro, nella casa dove sono cresciuta, a Milano, lei viveva nella Mansarda. E tra l'altro, io ho anche uno zio che nessuno sa. Nascosta dentro la Mansarda. No, viveva. No, nascosta non credo. Te credo poi. O meglio, questo è quello che mi hanno detto, quello che si vocifera. Poi magari è una stupidata, non lo so. Cioè, una figata. Però si vocifera che lei vivesse lì perché c'era questa coppia di architetti. Cioè, nessuno l'ha mai vista. Nessuno l'ha mai vista. Però si vocifera che prima che arrivassero i miei genitori con me, bimbina, bamboccina, lei vivesse lì perché era molto amica di questa coppia di architetti che viveva appunto all'ultimo piano. E invece mio zio, che si firmava Gabba, ossia Gabriele Gaspari Abbate, lui ha scritto tipo è un coautore di L'uomo per me, pensa. Pazzesco. Quindi è possibile. Però io non l'ho mai conosciuto, quindi in realtà condividiamo il sangue. Lui l'aveva chiusa in mansarda. Esatto. E poi gli scriveva le canzoni e le obbligava. Le obbligava a cantare. Esatto, esatto. Ci può stare. Entriamo nel vivo di Decoripodcast. ce l'hai un ricordo Decore da bambina, il primo che è proprio piccolissima. Il primo che ti ricordi. Vai indietro con la memoria, cioè proprio il più possibile. Ma legato alla musica? No, alla tua vita. Usciamo dalla musica. Adesso si parla di vita, si parla di... Adesso che stavamo parlando di casa mia, di quando ero piccola, mi ricordo la prima volta che sono entrata in questa casa nuova e vedevo la sala enorme. Adesso c'è una salotto grande, ma non è così immenso come quando ero piccola. Si vede che sei piccolo e vedi gli spazi immensi. Mi ricordo che ero arrivata in questa casa, mi ricordo questo telefono, sai i vecchi telefoni, quelli che mettevi il dito e giravi? Facevi il numero, no? Beh, sì. Sì, sì, sì. E mi ricordo che c'era questo telefono in mezzo alla sala e nient'altro. Ho detto, mamma mia, questa casa è gigantesca. Quelli si usava a metterci il lucchetto. Il lucchetto, davvero? Il lucchetto? Sì, si metteva il lucchetto per far evitare magari i bambini di fare chiamate. Noi facciamo questo gioco, nel senso, questa idea che le maschere che ci mettevano da piccoli a carnevale in qualche modo ci hanno influenzato nella vita. Ti ricordi le tue maschere? Scusate la tosse, ragazzi. Io me ne ricordo, sì. Io mi ricordo che mia madre a mio malincuore mi vestiva da zorro. Non so perché. Questo è un cortocircuito strano. Mi vestiva da zorro. Pure a me mi vestiva da zorro. Pure a te. Però a te, maschietti, mi vestiva da zorro. In quegli anni comunque non è che c'era, dici sai com'è, io sono moderno. Forse perché era più facile però. No, zorro era proprio economico. No, mettevi la bandanina nera, mantelino, era andato. Tevevi essere da cameriere, però con la cosa, con la maschera. In cameriere con la maschera. No, adesso diciamo c'è una libertà legata ai generi che all'epoca probabilmente c'era un'attenzione, sai, il bambino gli compri tutte cose da maschio, gli fai la stanzetta azzurra perché comunque gli vuoi dare quell'imprinting lì è una cosa particolare che ti vestivano da zorro. Dovai capire solo quella maschera lì. Che problemi ha portato nella mia vita. Poi forse all'epoca tua a zorro era anche un po' Michael Jackson, sai, zorro era, ricordava, non so. Ma perché da zorro? Ma tu lo sai. Hai un fratello? No, proprio... No, da zorro. Secondo me come dici tu, forse è una roba economica, non lo so. Sai che non ne ho un'idea ancora adesso? Non so, da principessa. Beh, io guardavo zorro comunque, guardavo zorro. E quindi, diciamo, forse... E lo guardavo anche in maniera abbastanza ossessiva, mi piaceva tantissimo Tenente Garcia. Poi guardavo poco il film, c'era zorro. Io però... Come no, certo. Col cavallo. Come si chiamava il cavallo? A me stava un po' su... Tempesta? No. Come si chiamava? No. Non so. Furia? No. No, che... Lessi! No, a me stava un po' sul cazzo zorro. Sì? Sì, è troppo figo. Era un po' latino, un po' ispanico. E poi zorro c'aveva la sindrome di Superman, perché praticamente mascherato o senza maschera... Era lui, cioè nessuno lo riconosceva. Era uguale. Era solo una maschera. È vero. E io l'avrei riconosciuto subito. È vero. Senti, dove hai vissuto a parte Milano? Com'è stata la tua... Ho vissuto solo a Milano, purtroppo. E allora, ti ho detto, sei una Milano... No, Doc, no. Non perché sei andato altrove, ma perché nel tuo modo di comportarti, nella tua vita, nelle tue ispirazioni, in quello che hai... Magari nei viaggi, sei... Ti sei emancipata dalla città. Ma sai che in realtà pochissimo, perché poi comunque io... Vabbè, quando ero troppo piccola, di viaggi, vabbè, ho fatto sai i tipici viaggi che fanno i ragazzini, che vanno, non so, a Miconos. No, non so. Io in Abruzzo andavo. Tu andavi in Abruzzo. Un amico. Vabbè, andavo in Liguria, vabbè, dove avevo i nonni che abitavano lì. Poi vabbè, crescendo mi sono fatta... Io adoravo tantissimo il Marocco, ma tantissimo. Impazzivo per il Marocco. Solo che poi di la situazione degli animali, sono molto sensibile agli animali, e non solo degli animali, ma anche delle persone. Comunque è una situazione molto precaria. Io andavo lì, non riuscivo a rilassarmi, perché comunque vedevo che, insomma, in giro, sono stati animaletti che stavano male, le persone che comunque, insomma, erano molto povere. Quindi poi ho smesso di andarci, perché comunque ogni volta mi veniva un po' male. E adoravo anche l'Egitto tantissimo. Però non sono mai andata a vedere le piramidi. Quindi devo assolutamente andare a vederle. Questa è una cosa che mi sono ripromessa. E invece ultimamente sono fissata con la campagna. Ma fissata. E praticamente ormai vivo alle porte di Milano. Ho preso questa cascina che man mano ho ristrutturato. L'ho riempita di animali, cani, qualsiasi cosa. Quindi Milano, milanese doc sì, ma... Fino a un certo punto. Un po' più, insomma, provinciale ultimamente. Ma Milano la senti te gore per te? Cioè, come quando a noi ci dici Roma, ma è un po'... Oppure no? Ma Milano, secondo me, non è una città proprio del cuore. Perché chiaramente è un luogo soprattutto di lavoro, no? Milano è un luogo dove le persone lavorano forse anche troppo, secondo me. È tutta basata molto sul... Cioè, incentrata sul lavoro. Quindi c'è poco tempo libero, poca possibilità anche di... Per lo meno parlo per me, di incontrarsi, di godersi un po' al momento, se non nelle situazioni post-lavoro, fatte per lavoro, in qualche modo, no? Ma no, infatti c'è questa cosa delle cene... Qualcuno annuisce. Delle cene, degli incontri di lavoro. Eh sì, quindi... Noi a Roma invece ci incontriamo che magari vorremmo parlare, ma poi non concludiamo niente. Niente, niente. Eh, però lì a Roma voi siete un po' più rilassati. Guarda, questa storia di rilassato è una leggenda metropolitana. Una leggenda. Però noi siamo più tranquilli, cioè nel senso... Nel esempio, noi ci mettiamo a tavola seduti. Oggi siamo stati a pranzo, qui a Milano. Se lo fai a Roma, finisci alle sei del pomeriggio. Perché è molto... Che è anche il suo bello, no? È molto lunga la cosa, quindi però poi il resto... E comunque a pranzo oggi sono scelte tutte le idee del lavoro. Tutte, sì. Perché eravate a Milano. Perché sembra giusto se a Milano... A Roma non l'avremmo mai fatta. Mai fatta. Senti, fossi domani sindaco o sindaca, ora qua c'è sempre una diatriba sulle vocali, di Milano qual è la prima cosa? Sindacchia. La prima cosa che... Cosa farei? Che faresti. Eh, guarda, io in realtà cercherei un attimino di mettere più mezzi pubblici, onesta, perché... Ancora di più. Di più, di più, di più. Per me ce ne avete... Per me ce ne... Cioè, abituate ai miei standard, ce ne avete tantissime. Cavoli, ogni volta che chiamo, poi non so per quale motivo, però ogni volta che cerco, ad esempio, di spostarmi, chiamo un taxi... No, i taxi sono una roba impressionante. Non ci sta, cioè, non ci sta. Non c'è questo problema con i taxi. E non c'è possibilità dove tu riesca a trovarne uno. Quindi io ormai vado a piedi, esco molto prima, cammino per Milano, sono praticamente una via andante. E cosa devo fare? Perché non trovi mai un taxi, è vero? Senti, stiamo facendo questo gioco in cui tu hai una giornata libera, non devi lavorare, non devi fare niente. Ed è un gioco, oggi è un gioco, hai una giornata libera. Non vale nella vita reale. Senti, come sei cambiato? Il tuo giornata libera è non day out. Day off. Day off. Un day off. L'ho detto apposta perché magari io non so di day off. Hai un day off e ti puoi riposare. Cosa fai? La mattina, pomeriggio e la sera, quali sono le tre cose che fai? Allora, guarda, la mattina del day off mi sa che dormirei. Dormirei perché dormo, cioè, ultimamente dormo pochissimo perché torno a casa tardissimo e poi quando sei, insomma, hai tante cose da fare magari vai a dormire anche tardi. Quindi dormirei, proprio un po' di calma piatta. Cosa farei? A pranzo andrei a mangiare in qualche trattoria bel vinello rosso, quello da tavola buono della casa, magari di qualche cantinetta intorno a Milano di zona e poi starei con i miei cani, dai, io starei con i miei cani tutta la vita. Quanti sono? Guarda, adesso sono tre, però in realtà forse arriva il quarto, ahimè, arriva sto quarto cane, mi sa, mannaggia. Un nuovo ingresso. Mi sa che c'è un nuovo ingresso. Io ho letto su un'intervista che hai ospiti anche dei piccioni a casa. Ma ancora ce ne ce stanno? No, guarda, ne ho uno. Allora, diciamo la verità, io ho trovato questo colombo caduto per terra. E che già senti colombo al più figo? perché è realmente un colombo, non è un piccione. Quindi di che colore ha il più omaggio? Allora, si chiama colombaccio ed è una razza di colombo più grande di dimensioni. È un piccione coatto. Lo chiamano il piccione reale, è un po' più coatto, un king, tutto un po' cicciottello, più massiccio. Infatti io l'ho salvato da per terra e poi vedevo che diventava gigante e ho detto ma cos'è questa roba? Era lo struzzo. Un'aquila, non lo so. Ho preso un'aquila, non lo so. E invece no, si chiama colombaccio che è un parente del piccione però più grande e si chiama Osvaldo. E ti dimostra affetto. Ma è carinissimo. Gira per calma cola. Allora io lo tengo in una voliera e no, lui viene su di te, ti spulcia, ti stragari. Lo vedo di spulcia. Però il volatile... No, sputarmi per forse... non è un là. Al volatile fa piacere la carezza. Tantissimo. Sì, prendono le coccole, sono stracarini. Sì, sì, di brutto. Poi io sono la sua mamma, no? Quindi mi segue. Però vabbè, vive fuori casa in una voliera. Quindi è un maschio. A chi lo sa? Sai che in realtà tu lo scopri col tempo se è maschio o femmina. È una sorpresa. Perché se fa l'uovo è femmina e se non lo fa... Quindi ancora non l'ha fatto. Quindi è ancora incognita. Per ora si chiama Osvaldo per vedremo come chiamarla. Se facesse l'uovo tu lo faresti schiudere e tutto quanto per... assolutamente no. Ci manca solo... Ti immagini... Cioè, che lo coverei. Però scusa, se non fa covarlo magari no. Covarlo non credo di arrivarci. Però se sta chiuso da solo dentro casa come fa? Cioè, non... No, in una voliera lui. però non... Non può riprodurre. Ah sì, certo, non si può riprodurre. No, ma comunque non lo farei riprodurre. È un miracolo. Sì, perché l'uovo lo fa. L'uovo lo fanno. Sì, non lo può, diciamo... Non lo può, non è fertile. Ci può fare una frittà. Proprio tu che hai avuto tante galline. Sì, avevi anche... No, ce li ho, ce li ho ancora. Però non in casa le galline. Sempre nella voliera con questo povero colombo ci sono due galli. però sa voliera... Per fortuna non lo picchiano, per fortuna. Però sa voliera sta in giardino, diciamo. Sì, sì, sì. No, perché dall'intervista sembra che c'avevi dentro casa. quando sono a Milano me li porto perché non li lascio lì in campagna. Ah, li porti con te? Eh, me li porto con me. A casa dei tuoi o c'è una casa milanese? Però le galline fanno le uova? No, sono galli. Anche quelli, mi è andata male pure quella. Perché io volevo prendere le galline e si vede che mi hanno rifilato due galli. Ma io chiaramente non lo sapevo, erano piccoli, invece secondo me la persona che mi ha rifilato e lo sapeva benissimo. e quindi poi mi sono ritrovata anche niente, io alle 6 del mattino che chiri, che chiri. Ma poi cantano cioè non una volta. Continuamente, un allarme tipo a ripetizione. Senti, abbiamo parlato di musica e ti abbiamo chiesto anche un paio di film de core. Ebbene sì. E tu ci hai dato due titoli. Sì. Chocolat e Il pianista sull'oceano. E ci parli tutti e due perché sono film de core per te. Allora, Il pianista sull'oceano è uno dei primi film che ho visto quando ero bimba. Anche lì dici, mazza, far vedere un film del genere da una bambina. Sempre come Zorro. Spessita da Zorro. Spessita da Zorro. E mi colpì tantissimo innanzitutto perché a me è andata un po' come per lui. Io avevo questo pianoforte in casa che era, credo, un pianoforte dello zio per l'appunto che era rimasto lì insomma inutilizzato. E io una notte mi sono alzato e ho iniziato a suonarlo. Punto. E quindi i miei genitori che dormivano al piano di sopra scendono e fanno ma chi è che sta suonando il pianoforte? È vero io. Perché io ho questa specie di, non so, chiamarlo dono o non lo so per cui ascolto una canzone e la riproduco. E poi la mia storia con la musica è iniziata così dove io ascoltavo mi ricordo la sigla dei Tortellini di Giovanni Rana me lo ricordo ancora? Ti ricordi? No. Vabbè era una sigla evidentemente mi piaceva. Io vengo da una generazione della Barilla. Noi tutti gli facevamo la sigla della Barilla. Io tutte quelle sigle lì cioè tu dici cazzo ma vatti a ascoltare qualcosa di più figo i Tortellini di Giovanni Rana vabbè la sigla della Barilla io le risuonavo al pianoforte ma senza conoscere le note. E quindi lì praticamente mia madre disse ah brava Federica e mio padre disse no ma che fa questa no no le canzoni no no vabbè canzoni piccioni no 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 vabbè e quindi quando vedi questo film mi colpì molto questo ragazzino che appunto era orfano e venne appunto adottato da questo da questo uomo che lavorava come operaio adesso non mi ricordo bene in questa nave e lui praticamente sta lì tutta la vita chiaramente diventa un pianista incredibile ma la cosa più incredibile è che lui quando deve abbandonare questa nave perché questa nave poi alla fine deve essere distrutta no lui non cioè non avendo conosciuto nient'altro che quella nave lui piuttosto che uscire e affrontare l'ignoto decide di di rimanere lì di morire insieme alla sua nave e in qualche modo questa cosa mi aveva colpito perché era un finale totalmente no sense però che da un lato capivo perché anche io sono abbastanza una abitudinaria dove faccio fatica a slegarmi dalle cose che amo non saprei dirti se amando un pianoforte una nave rimarrei su una nave mentre esplode però capisco comunque lo capisco in qualche modo 900 questo pianista sull'oceano e invece Chocolat Chocolat mi colpì anche quello è uno dei film che ho visto quando ero bimba proprio perché questa protagonista mi ricordo si chiamava credo Vivienne è questa donna che arriva in questa città dove sono tutti un po' bigottoni e lei decide di aprire questo negozio dove fanno cioccolata e quindi in qualche modo lei porta qualcosa di nuovo di cui tutti hanno un sacco paura ma è qualcosa di bello quindi come spesso poi le persone abbiano paura del bello di tutto ciò che è diverso che è un po' fuori dagli schemi che non si aspettano e a volte invece di coglierlo di accoglierlo lo respingono così non avvenisse diciamo se ci fosse un po' più di apertura mentale credo nelle persone credo che il mondo sarebbe insomma più bello però vabbè senti c'è un luogo nel mondo a cui sei legata che non è Milano c'è un posto in cui vai adesso per rifugiarti che ti piace un posto che senti tuo la campagna la campagna lì tu ti senti proprio io mi sento proprio nel mio habitat naturale tantissimo mi piace tantissimo stare in campagna io invece una domanda che faccio spesso un luogo una location dove ti piacerebbe suonare una location dove ti piacerebbe suonare dove ti piacerebbe fare un concerto che dici ti danno la possibilità vabbè sarebbe bello tipo in montagna ad alta quota che è una cosa che spesso fanno e che è veramente molto bello comunque a contatto con la natura un luogo a contatto con la natura ti direi sai quelli che vanno tipo a suonare per le mucche forse anche quello però per dire tipo in montagna con la neve con la neve sarebbe bello suggestivo fa un po' freddo però sarebbe suggestivo un po' complicato però deve essere veramente tipo l'alba anche un momento della giornata tipo all'alba appena sorge il sole una cosa una cosa così e noi lanciamo un appello a qualcuno che organizzi un tuo concerto all'alba e al freddo al gelo sul cucuzzo la dinamontagna che viene i tecnici esatto venite numerosi per preparare un concerto all'alba devi andarci tipo alle undici di sera alle due di mattina senti invece libri decore il gabbiano Jonathan Livingston ebbene sì anche quello è tipo il primo libro che ho letto anche lì dici ma scusa dal gabbiano al colombaccio è vero ecco io da lì credo di aver iniziato a coltivare il mio amore per tutti i volatili ed è una storia bellissima tra l'altro quella del gabbiano Jonathan Livingston perché mia madre me lo regalò me lo fece leggere un po' come monito per seguire le mie passioni del non avere paura delle tue passioni di seguire i tuoi sogni perché il gabbiano Jonathan Livingston decide che lui non vuole volare solo per procacciarsi il pesce ma vuole volare perché gli piace volare vuole imparare nuove tecniche di volo però viene rifiutato dal suo stormo perché in qualche modo lui fa qualcosa che non è convenzionale e quindi sì mia madre mi ricordo me lo regalò e tra l'altro avevo anche letto la gabbianella e il gatto quindi ho un po' fatto un mistone tra i due e c'era questa frase di Sepulveda che me la ricordo ancora come se fosse ieri che era vola solo chi osa farlo bellissima per riscriverlo adattandolo ai gabbiani di Roma secondo me che non vogliono volare solo per mangiare la monnezza ma anche magari per vedere i monumenti dall'alto potresti farlo potresti fare uno spettacolo Danilo da Fiumicino racconta il gabbiano il gabbiano romano che è differente a te che ti piacciono diciamo i volatili il gabbiano romano è differente da qualsiasi altro gabbiano al mondo davvero? sì sì è geneticamente modificato ha una personalità proprio spiccata ti guarda sempre negli occhi fa le prepotenze è sfruttato è sfruttato e conosce benissimo la città attualmente molto di più dei romani stessi veramente come si concretizza la passione per i volatili nel senso che poi è una roba che fa sempre ridere tutti perché io dico sempre volatili perché sono perché poi c'è questo diciamo approccio ai volatili per colpa di Hitchcock soprattutto secondo me sono abbastanza inquietanti cioè terrorizzano la maggior parte dei volatili invece sì è vero non c'è un bel rapporto no essere innamorati ti ho sentito devo dire prima fuori onda che hai fatto bird watching sì come funziona perché penso non ho mai allora guarda il più bel bird watching che ho fatto mi ricordo che ero a Los Angeles quindi c'è anche una classifica il più bello questo è il più bello perché lì c'erano i colibri o non mi ricordo se era Los Angeles o Miami comunque ero sempre per lavoro chiaramente ero via avevo visto una volta da lontano mi ricordo che stava mangiando ed ero con Takajiki tra l'altro che possono testimoniare ma quello è un colibri che tra l'altro è un uccellino grosso come un moscone ma io da lontano l'avevo visto tu Takajiki che vedevate stavo mangiando quello è un colibri e loro dicono ma dove c'è chiaramente una moschina minuscola io dico vabbè ok domani a quest'ora un po' prima mi piazzo là sotto quella pianta dove c'è quel fiore dove lui va a mangiare e aspetto che arrivi poi l'ho fatto veramente mi sono piazzata quanto hai aspettato? ho aspettato tre quarti d'ora non tanto erano tutti che dormivano comunque meno di una fila apposta quindi io preferirei star lì quindi niente sono messa lì poi è arrivato questo minuscolo uccellino bellissimo un moscone grosso come un calabrone poi alla fine i rapaci grandi uccelli cose ti è mai capitato? no non li ho mai visti però ti piacerebbe oddio vorrei un po' paura però sì? sì però vorrebbero un po' paura perché chiaramente tipo l'avvoltoio queste cose ma beh sono belli ah sì sono belli belli massicci lo fanno speciale sono decore volatili decore simulati birdwatching senti c'è una rubrica del podcast che parla io c'ho una domanda che ho scritto la suona il tasto però la suona non so perché l'ho scritta però una domanda allegra sulla tua lapide cosa vorresti che ci fosse scritto non so cosa vorresti che ci fosse scritto cioè proprio ti obbligano a scegliere una cosa da scrivere l'avevi già fatta mi pare è vero oddio sai che è una cosa onesta non la faccio a tutti però onesta non ci avevo ancora pensato perché insomma un po' in anticipo spero come domanda oddio a me piacerebbe che ci fosse scritto che insomma che sono stata amata in vita non so dai miei futuri figli o insomma dalle persone che mi sono accanto è vero uno mi fa domanda non è una cosa che ci vuoi scrivere te ma quello che ti piacerebbe che ci scrivessero l'altro sì che sono stata amata sono stata amata che è una cosa scontata però te Danilo ho dato sprint no molto sprint mi hai dato un po' di allegria perché la fai forse hai in mente te una cosa da scrivere no no non ce l'ho infatti uno può anche mettere semplicemente bianco senza niente sì una foto io metterò sicuramente la foto di Osvaldo senti c'è una rubrica legata alla cucina tu sei una che cucina ma guarda un po' cucino un pochino cucino non sono una queen della cucina ma cucino inviti un amico o un'amica a casa che gli prepari guarda io preparo il messicano il messicano è proprio insomma è un rito perché chiaramente tu devi andare a fare la spesa voi l'avete mai mangiato messicano? no questo è cioè scusa è una tipica risposta milanese eh sì una roba tipo un po' messicano sì esatto che fai tutte le robe un po' si mangio cioè io il messicano lo associavo sempre ai nachos a queste cose invece cioè la cucina messicana è molto più elaborata più complicata una cucina un po' flat un po' facile perché vado vabbè devi fare la spesa ti compri le tue faiitas ti compri la tua carne trita i tuoi peperoni e poi in realtà fai tutte le varie verdurine a parte e poi assembli tutto insieme quindi alla fine è una grande piada no in qualche modo la piada e poi fai praticamente come si chiamano gli anelli di cipolla dentro la birra sono buonissimi cioè è proprio quindi la tua cucina decore è la cucina messicana allora quello è il piatto che io so cucinare meglio la cucina decore allora io amo ce ne sono due io amo tantissimo il cinese non hai mai una roba italiana vabbè perché vivo a Milano Milano è certo è tutto com'è che si dice come si chiama quando vai nel reparto del supermercato del cibo etnico esatto invece a Milano c'è un reparto piccolo piccolo scritto cibo italiano perché è tutto etnico comunque a me piace un sacco il cinese ne ho uno proprio di fiducia a Milano poi non voglio fare pubblicità ma è proprio incredibile e c'è sempre una lotta con i miei colleghi dove io dico questo è il migliore e loro dico no no il migliore è un altro no 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 non ho ragione io sono sicura e sono proprio innamorata e dal cinese che prendi cioè il tuo ordine tipo allora scodella di calamari scodella di fuoco di calamari piccante insomma bella tosta poi prendo carne al cartoccio perché è un cinese particolare vi ho detto non è il tipico da reso cantonese pollo alle mandorle figurati poi i cinesi quella è cero betta i cinesi in Cina non mangiano quello che mangiamo noi veramente cioè non conoscono in voltini primavera non conoscono cioè per loro quello che mangiamo noi è il junk food cinese cioè la monnezza questo è un cinese tradizionale tradizionale e fanno tantissimo pesce poi chiaramente è ben risultato con le verdure i gamberi e cos'altro mi piace a me piacciono i cetrioli l'insalata di cetrioli che però è fatta con olio di sesamo e non so cos'altro ci mettano per me questo è il menù di milanese non ti piace nulla cioè qual è il tuo piatto allora tipo la cotoletta non mi fa impazzire però vabbè tutto quello che è tipo i ravioli insomma la cucina soprattutto un po' di provincia verso la campagna per l'appunto cosa che ci sono i ravioli di magro i ravioli di mandorla c'è il risotto l'ortica che è buonissimo sono tutti questi piatti un po' tradizionali buoni questo è più roba roba mia senti per la nostra attività imprenditoriale futura sì infatti il panino cioè ce l'hai tu un panino un panino tipo Danilo vorrebbe aprire una paninoteca a decore dove noi mettiamo i nomi degli ospiti associati a un panino quindi ci stiamo facendo dare da ogni ospite un panino partendo dal pane vedi però un po' st'idea ti piace molto ma volevo prendere io tutta mia però qual è il tuo panino diciamo ideale da mettere a menù ma vuoi proprio il nome del pane no proprio il panino allora mi piace quello con il roast beef però no l'ho inventato da te roast beef sai quello però un pochino insaporito con il rosmarino c'è fatto un po' buono però cottura cottura media diciamo che il roast beef è un arosto tagliato fino dentro un po' crudino cioè non proprio un bello cioè cotto un po' crudino all'interno media cottura bassa cottura meglio con la salsa tartara possibilmente e poi ci metterei uno dei primi panini buoni che ci stanno dicendo sì a volte certe schifezze non lo possiamo dire ma ci dicono certe schifezze mamma mia e poi farei la rucola la rucola che secondo me si sposa bene la rucola sta bene con tutto da per tocco d'amaro e poi un panino il panino non so se fare quello all'olio no un panino all'olio non sa pure della rucola che per me è ruchetta rucola stessa cosa quando ero piccolo io non esisteva poi l'hanno la rucola l'hanno sdoganata a fiumicino non esisteva ma c'era insalata ma adesso la rucola a Roma c'era forse la tua madre dai non c'era non c'era la rucola ma non c'era stavolta la ruchetta adesso fanno il letto di ruchetta su tutto allettano tutto ha visto tutto quanto prima non c'era no no non c'era proprio è una coltivazione recente poco meno poi Milano è la città dell'avocado strano l'avocado l'avocado è la per tutto mettete l'avocado il frutto sai che io non lo mangio quasi mai però è vero io ho una mia amica che è fissata che fa sempre quando viene a cena mi porta sempre la salsa dell'avocado dai gente si nutre solo d'avocado milanesi sono diventano verdi ma sai di cosa mi nutro di solito c'è il 90% noi siamo fatti di acqua noi siamo fatti di acqua loro di avocado a me piace il succo di pomodoro condito questo è sempre una cosa che tutti mi dicono cosa? che schifo io vado ad esempio odio il Bloody Mary il cocktail io amo il Virgin Mary non il Bloody Mary perché meglio togliermi l'alcol perché io veramente bevo un goccetto non hai capito cioè divento proprio Virgin Mary è un Bloody Mary senza altro bravissimo non esiste lo sai il gaspaggio ti piacerà anche il gaspaggio immagino stavo alluvionando gli studi alluvionando senti Di Paolo in Frasca ti è mai capitato di scrivere una canzone rifiutata da qualcuno che poi diventa una hit un sacco di volte e poi si sono mangiati le mani anzi è sempre così tante volte tu dici guarda fai sta canzone perché è veramente una hit poi la fa qualcun altro ed è esplode chiaramente una hit esplode e poi si mangiano le mani e poi si mangiano le mani e no non te lo dicono chiaramente no e no non te lo dicono però però tu gli mandi dall'ufficio stampa gli fai mandare disco de platino gli fai mandare comunicazione no però ti dico io quando sono molto convinta di una canzone di solito la difendo a spada tratta quello divelo dire tu tu quando scrivi cioè lo senti già che quella poi diventerà sì 100% c'è il momento cioè quando scrivi una canzone che è veramente veramente hit ma deve essere hit 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 speciale 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 e lì me ne accorgo ci metto poco ad accorgermene che c'è una magia cioè lo senti mentre scrivi che c'è proprio c'è l'aria elettrica eh sì e quindi sì ci sono canzoni che funzionano solo diciamo interpretate da determinati artisti che se tu l'avessi data un altro avrebbe fatto flop ti direi quasi tutte onesta quasi tutte e tu scrivi in maniera generica è molto stretto scrivi per un determinato artista scrivi in un modo oppure scrivi e poi dici questo andrebbe bene per in entrambi le direzioni cioè vado a scrivere sia pensando a chi darla e allora chiaramente fa ridere perché io rispetto quando scrivo per qualcuno un po' imito la sua voce perché comunque mi aiuta a scrivere meglio la melodia per stargli dietro e a volte fa un po' ridere però vabbè lo faccio e fa ridere ci vorrebbero le registrazioni ma non per prendere in giro qualcuno ma perché poi mi aiuta o viceversa a volte scrivi una canzone a caso è una hit e poi magari la dai a quello per cui l'avevi pensata ma poi alla fine la fa un altro e fa una hit lo stesso quindi in realtà le regole sono infinite ci sono sempre secondo me due interpreti che possono far diventare quella canzone una hit ma quella canzone non è in bocca a tutti una hit chiaramente ma tu quando la dai ad un artista cioè come funziona la dai proprio cioè vedi la reazione subito dell'artista a quella canzone dipende dipende del grado di confidenza ci sono alcuni che vabbè sono proprio amici e quindi chiaramente diventa vieni che ti faccio ascoltare sta roba e l'ascoltano oppure gliela mandi su whatsapp oppure invece vabbè è una cosa che lascio fare agli editori e capita che le modificano? è poco di solito se le modificano troppo un po' te stranisci no vabbè nel senso devono sentire loro la canzone quindi se chiaramente hanno qualche parola o qualche cosa che viene detta che non se la sentono addosso ci mancherebbe succede che c'è stato degli sì qualcosina sì certo è interessante perché è un mondo di cui si parla basta che non vuoi cambiare il titolo perché sennò chiaramente è un problema che gli metti cioè che diventa perché tu gli dai anche il titolo e beh sì la canzone è quella magari la canzone non so si chiama nessun grado di separazione chiaro che se uno vuole cambiare quello è difficile perché decade tutta la canzone certo è molto interessante senti potessi scegliere un superpotere sai che lo so molto bene io vorrei potermi teletrasportare in giro perché quanto tempo passiamo a raggiungere i luoghi a tornare da ad andare a teletrasportarmi cioè proprio dovresti fare una protesta contro i tassisti abbiamo capito abbiamo capito questa cosa ce l'hai con loro però non ti sono mai venute delle bellissime idee durante uno spostamento quindi se vai solo a fare la cosa puoi stare sempre a fare quello ma poi sai che cosa che becco sempre qualcuno tipo vado vado in taxi e becco o quello che ascolta meta la palla o quello arrabbiato o quello che ce l'ha con quello davanti cioè non è che sono sempre spostamenti tranquilli sempre qualcuno che ce l'ha con qualcun altro tipo al telefono o la ragazza che ha litigato o l'altro quindi alla fine però almeno tu c'hai tu c'hai la figata che mentre stai in taxi potresti ascoltare una tua canzone che mandano che mandano io neanche quella neanche quel quel brivido e tu mentre passa mi ricordo una delle prime volte che quando ero ragazzina era uscita a Roma a Bangkok e praticamente passano in radio c'era il taxista appunto c'era Roma a Bangkok e il taxista praticamente sbatte il pugno sulla radio fa ma sta canzone mi ha proprio rotto le scatole no ma dai è carina no ma non è carina però anche in quel caso come Roma a Bangkok come hai scelto queste queste due città specifiche ma guarda in realtà le ha scelte Takagi perché praticamente all'inizio tra me e Ketra avevamo messo Roma a New York però poi arrivò la zampata geniale di Takagi che disse no Roma a Bangkok c'aveva ragione molto più figo non c'è diciamo dietro non so un legame con la città oppure no no è stata proprio un'intuizione di Takagi delle sue zampate senti sei fan di qualcuno per cui vorresti scrivere che ancora non è successo assolutamente gli mandiamo un appello appello io faccio un appello a Tiziano Ferro io sono fan sfegatata essendo appunto una 90's sono cresciuta con le tue canzoni le amo infinitamente chiaramente sarebbe il mio sogno scrivere per un artista gigantesco come lui di una bravura incredibile e quindi noi mandiamo questo appello questo messaggio noi sì voi vado questo messaggio un messaggio un messaggio un messaggio un messaggio per Tiziano Ferro quindi stiamo qua hai qualche freccia nel tuo arco altrimenti io guarda no sono così sono senza frecce e allora io ti faccio la domanda con cui solitamente concludiamo il nostro podcast che è questa nella favola di Peter Pan i pensieri felici servono a staccarsi da terra e a volare via sì c'era tu un pensiero felice che un po' ti astrae dalla vuotitanità dalle cose che un po' ti protegge ti fa sta bene una cosa che ma il pensiero di fare qualcosa per gli altri farà ridere però canzoni per gli altri in realtà mi descrive tantissimo perché quando so che ho fatto qualcosa di buono per gli altri per gli animali o per una persona che amo il fatto di aver fatto qualcosa a me cambia cambia la giornata io alla fine penso che noi tutti siamo fortunati facciamo un lavoro bellissimo e alcuni di noi hanno anche la possibilità di guadagnare qualche soldino in più rispetto alla media qualche soldino datelo al cagnolino che ha bisogno di un'operazione una persona che ha bisogno di sostegno non so medico o di altro tipo l'oretta di andare dalla nonna a tenerle compagnia queste piccole cose che secondo me ti cambiano ti cambiano la giornata ti cambiano la vita comunque vada hai fatto bene no? so che sembra un po' Maria Teresa di Calcutta però è vero a me solleva è bello è la prima cioè tra le tante cose che ci sono state dette questa non era stata mai detta perché molto spesso i pensieri felici sono gli affetti sono le famiglie i figli i fidanzati i genitori oppure invece tu hai avuto invece uno sguardo su questa cosa fare qualcosa per gli altri ci rende migliori è vero e ne ti ringraziamo perché hai fatto qualcosa anche per noi venendo ospite a Decore noi ringraziamo e voi per me la Sony che ci ospita e Dobcast che produce questo podcast Danilo da Fiumicino ci vediamo presto Alessandro Piero Avanti grazie a tutti ciao ragazzi ciao una produzione Dobcast ciao a tutti ciao a tutti